La lentezza della luce a cura dello studio Campo Boario. Il paradiso sarà illuminato dal sangue. Può esistere il dispiacere per noi umani di non essere noi la luce del mondo. I primi tre giorni della creazione del mondo erano stati illuminati da una luce che non era il sole e non era la luce terrestre. I primi tre giorni del mondo trascorsero senza sole, illuminati da qualcosa o da qualcuno che non era la luce degli astri, perché il sole e gli astri di fatto furono creati solo al quarto giorno, secondo Genesi 1.14. Ciò significa che la luce sensibile fu preceduta da una luce di specie diversa, che non è il nostro giorno, come lo conosciamo. Secondo Isaia 14, i primi tre giorni del mondo furono illuminati a Lucifero, che era la luce del mondo. Per compensare la sua caduta, venne creato in sostituzione il nostro sole terrestre, quello che illumina la nostra terra, ed è solo un surrogato di Lucifero. In questo senso, c'è stato un giudizio anche per la luce. Nei primi tre giorni del mondo era Lucifero che sorgeva al mattino. Infatti, nel quarto giorno, quando gli astri furono creati, risulta che già esistevano gli angeli, secondo Giobbe 38. Le intelligenze angeliche erano state create già nella luce luciferina del primo giorno. All'inizio si trattava solo di una illuminazione interiore, determinata dalla riflessione, indipendente dagli astri, con una chiarezza invisibile all'esterno, ma così lucida da permettere di intuire il mondo da un capo all'altro. Se la luce della terra illumina l'essere naturale delle cose e si rapporta alla conoscenza naturale, la luce non solare dei primi tre giorni consisteva in un'intelligenza che faceva vedere le cose nell'intelletto e non nella natura, lo spiega Agostino nel Super Genesim. Se il corpo umano è stato creato il sesto giorno, secondo Genesi 1.26, la mente già corrispondeva alla luce geniale, personale, senza firmamento, dei primi tre giorni della creazione del mondo, perciò coincide con Lucifero. Ogni pensiero è un'illuminazione personale, non naturalistica, analoga a quella dei primi tre giorni. Ogni illuminazione mentale è imitazione della luce luciferina. La luce che c'è in sogno illumina i sogni e è ancora la luce dei primi tre giorni della creazione. L'illuminazione onirica è della stessa matrice. Tutti i nostri sogni sono tuttora ancora illuminati da Lucifero. Dentro il cielo della mente, nell'alba di un pensiero, si ricorre a una specie di luce temporale, non atmosferica, come quella dei primi tre giorni della creazione, prima della creazione degli astri. La memoria impiega un chiarore altrettanto astratto, che non procede dagli astri. Un intelletto è imparentato con la luce personale dei primi tre giorni della creazione, che illuminava il mondo e potrebbe diventare la luce del mondo. Allora perché il nostro io non è la luce del mondo? Quando la luce del mondo non sarà più astrale e impersonale e tornerà ad essere un io, un singolo potrebbe nuovamente essere l'astro del mondo, così come lo era Lucifero all'inizio. Al posto degli angeli ci dovrà essere l'umano, che sarà come gli astri del cielo. Lo attesta la promessa secondo la quale la nostra specie diventerà come gli astri, cioè noi saremo a luce del mondo. Ma chi di noi? I martiri diventeranno come astri. Allo spegnersi del sole si dovranno fare da sole al mondo, come in principio lo faceva Lucifero. Proprio per illuminare il mondo, Lucifero si era trasfigurato in angelo del luce. Egli si è crocifisso per illuminare il mondo. La sua esaltazione consiste nel passaggio terribile dall'essere una luce interiore all'essere una luce esteriore che vuole illuminare il mondo. Questa fu la crocifissione della luce. Ma perché tra gli uomini solo i martiri diventeranno luciferi e saranno la luce del mondo? Perché solo la carne umana può essere crocifissa. La crocifissione è una passione propria della carne umana e non della luce né dell'intelligenza. Per questo risulta che il paradiso sarà illuminato dal sangue, non dalla luce.